Per conseguire almeno un risultato positivo dobbiamo per forza fare il risultato stasera contro la Svizzera. La partita della Russia è stata una buona ripresa per tutta la squadra dopo delle partite di ieri un po' sotto tono e speriamo di continuare con questo ritmo, con questa calma, con questa tranquillità, facendo il nostro gioco, speriamo che la fortuna ci assista anche un pochino e sono convinto che se tutti questi fattori si uniranno potremo fare un buon risultato contro la Svizzera stasera.